Musica Nella giornata del 9 giugno daremo supporto a chiunque lo vorrà nell'avere dei consigli a livello cosmetologico e a livello estetico le pazienti avranno la possibilità di essere truccate e di avere dei consigli rispetto al cambiamento che stanno affrontando Nella stessa giornata daremo comunque dei consigli rispetto al benessere fisico interno rispetto a dei trattamenti che potranno essere effettuati sia durante che dopo le cure Grazie a tutti!